E' in arrivo una grande opportunità per il settore della cultura. Grazie al progetto ministeriale denominato Art Bonus, i privati potranno contribuire a restaure e alla conservazione di beni culturali fanesi. I progetti illustrati dall'assessore alla cultura Stefano Marchegiani, dall'assessore alle biblioteche Samuele Mascarin, potranno essere finanziati dai privati e andranno a favore della biblioteca federiciana e della Mediateca Montanari. Le proposte, che anche quest'anno sono dieci, comprendono due restauri, quattro digitalizzazioni, due interventi per attrezzature, acquisto di libri e materiali multimediali, nonché servizi. Tra questi l'iniziativa Nati per leggere e l'acquisto di un apparato acustico per poter suonare il piano, presente all'ingresso della memo, senza disturbare il lettore e gli ospiti della struttura. Il costo totale degli interventi è di 24.700 euro. Insieme al Comune di Iesi siamo stati i tre primi a proporre il progetto dell'Art Bonus, che è questa buona idea che ha avuto il Ministro Franceschini, di sollecitare il mecenatismo a sostegno delle attività delle istituzioni culturali pubbliche, con uno sgavio fiscale per chi contribuisce, del 65%, quindi molto importante. L'anno scorso abbiamo proposto dieci progetti per quanto riguarda la Biblioteca Fidericciana e la Mediateca Montanari, che sono stati interamente finanziati per circa 22.000 euro, ed è stato uno dei risultati più significativi anche a livello nazionale, tanto è vero che anche la stampa nazionale si è interessata a questa esperienza fanese. È un intervento importante, che ha anche un forte valore civile, perché oltre a garantire e migliorare la qualità di alcuni servizi, si dà la possibilità ai cittadini, alle imprese e ai privati di poter compartecipare alla salvaguardia, alla valorizzazione del patrimonio culturale pubblico e anche degli spazi che lo ospitano e lo fanno vivere. In conferenza stampa il direttore della Biblioteca Fidericciana, Danilo Carbonari, ha mostrato questo video ingranditore, acquistato grazie all'Art Bonus, che sarà a disposizione del pubblico. Lo strumento è in grado di agevolare la lettura degli studiosi perché permette di vedere le scritture nel dettaglio. Per chi volesse avere contatti e informazioni potrà trovare tutti i dettagli nel sito del Comune di Fano. Nella home page si dovrà cliccare su Art Bonus per Fano e all'interno sarà possibile controllare anche la fase di avanzamento dei contributi per avere un riscontro del proprio investimento. A questi interventi si aggiungono poi i progetti dell'Assessorato alla Cultura. Fra quelli più importanti, finanziati lo scorso anno, c'è il restauro da parte del Lions Club dell'Annunciazione, il dipinto di Guido Reni. Oltre a confermare le opere del primo pacchetto, che stanno avendo una massima diffusione nella sensibilità locale, abbiamo inserito due opere molto belle che stanno dentro San Pietro in Valle. Per esempio il Fondo per l'Ambiente Italiano, delegazione di Pesaro Urbino, ha attivato una raccolta fondi per il restauro della copia, della consegna delle chiavi di Guido Reni, che è l'unica pala che è rimasta a San Pietro in Valle all'interno della tale maggiore. Unitamente a questo abbiamo segnalato un bellissimo crocifisso ligno della Cappella Marcolini, la terza per chi entra sulla destra, è un crocifisso di fine 600, molto interessante per la postura di autore ignoto, però di grande fattura. E anche questa è una cifra abbordabile attorno ai 3.000 euro.